Il nuovo giardino, madame, deve essere un giardino della libertà, una cosa completamente spazionata a Napoli, in tutta l'Italia meridionale, e la duchessa nuova era terribilmente spazionata, l'agentino fuori mondo, di modello, e la prima è un momento. Ah, ecco, è il giardino. Il giardino è trasformato in divani vegetali, con spazzola, braccioli e ombrelli, e filo a un gratone dell'antico orto del Medioevo, nella cui figura si era la vecchia cittadina, e per caduta, e per caduta, pocosi. A presto, grazie. Grazie a tutti.